I medici e i sindacati sono sul piede di guerra, negli ospedali si moltiplicano i casi di disservizi e nel frattempo il presidente della giunta regionale, Nichi Vendola, rinvia il confronto. A dichiararlo è il senatore del PDL, Luigi D'Ambrosio Lettieri, segretario della XII Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. L'ordine dei medici di Bari ha convocato gli stati generali della medicina per il prossimo 12 febbraio, dopo essere stato ignorato dal governatore e dall'assessore regionale competente. L'incontro previsto per ieri è stato rinviato a data da destinarsi e davanti a questo ennesimo atto di indifferenza, ha commentato D'Ambrosio Lettieri, Da parte del governo regionale i medici giustamente sono passati all'attacco, ribadendo che il piano di rientro e quello di riordino ospedaliero rappresentano un'imposizione del governo regionale. Prendiamo atto del fatto che oggi anche le organizzazioni mediche, a partire dall'ordine dei medici, convochino gli stati generali per affrontare un problema drammatico, che i medici e tutti quanti gli operatori della sanità vivono quotidianamente in modo diretto perché sono i primi a toccare con mano la ferita profonda che questo sistema sanitario regionale con le inefficienze che abbiamo registrato determina sulla pelle dei cittadini che sono i primi a lanciare un grido di allarme per i ritardi, per le liste d'attesa, per i viaggi della speranza e per una risposta che nonostante gli elevati livelli di capacità della nostra classe medica non sono assolutamente adeguati. E in merito alle accuse della Puglia al piano di riparto del governo nazionale, D'Ambrosio Lettieri precisa Gli emendamenti al testo proposto che è nella bicamera milina sulla federalismo che sono stati proposti dal governo lasciano ben sperare. Il problema è che dopo l'atto di responsabilità del governo centrale che ha chiuso il piano di rientro con le erogazioni di 500 milioni, noi registriamo una Puglia che non è al fallimento, è fallita. Grazie. 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 Grazie.